Salve a tutti ragazzi, bentornati in questo nuovo video. Oggi dobbiamo parlare di un altro acquisto del Padova. Ragazzi, 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 l'avevo detto nel video precedente, andatelo a recuperare, Mattia Bortolussi è un nuovo giocatore del calcio Padova. Arriva dal Novara, quindi l'abbiamo già affrontato nel girone d'andata, e ufficialmente è un nuovo attaccante del Padova. E notiziona, firma fino al 2025, clamoroso, visto che arrivavano solo prestiti. Nel video precedente ho parlato ancora meglio di Crivello, che ne avevo già parlato in un video ancora più precedente. E poi sono arrivati Delicarri, è arrivato Cannavò, è arrivato anche Mattia Bortolussi. Mattia Bortolussi che nella sua carriera ha vestito le maglie del Gubbio, del Cesena, della Lucchese, del Sansepolcro, del Catania e appunto del Novara. E devo dire, tanta roba, un giocatore da 50 gol in questa categoria. Speriamo bene, perché sappiamo benissimo quanto il Padova ha bisogno di un attaccante, di segnare con gli attaccanti. E per il momento l'unico che ha segnato con regolarità lì davanti è Liguori. Quindi speriamo bene per Bortolussi, speriamo bene per Cannavò. Cannavò, ho ascoltato oggi l'intervista, non si reputa proprio una prima punta, più che altro un'ala, una seconda punta. Io immagino che Bortolussi invece possa fare proprio il ruolo di prima punta. È un metro e 83 se non sbaglio comunque sul metro e 80, quindi bello impostato, non troppo alto ma neanche troppo basso. E comunque appunto 50 gol in questa categoria fanno ben sperare. Ha fatto comunque già bene, l'ho visto quando ne hanno parlato, ho recuperato delle partite con il Novara. Novara tra l'altro ne ho promosso, però lui ha avuto già una bella carriera ragazzi alle spalle. Arrivare al Padova sicuramente sarà per lui uno step importante. Un contratto molto importante fino al 2025 che non era così scontato. Sono davvero davvero contento e io gli faccio i migliori auguri. Gli do il benvenuto come ho fatto con gli altri arrivi e spero che possa darci subito una mano. Non so se potrà già giocare contro il Pordenone. Mi raccomando, domenica alle 14.30 Padova-Pordenone all'Euganeo. Non so se sarò allo stadio ma comunque nel caso la guarderò. E sarà anche una partita importante proprio per il Padova, per il club, perché è celebrativo il fatto che appunto si gioca nella giornata in cui il Padova comunque fa 113 anni di storia dalla fondazione. Speriamo porti bene per una vittoria col Pordenone. All'andata al Bruno Teguil avevamo vinto, mi ricordo il gol di Vazic. Però non sarà facile il Pordenone primo della classe. Ci sono il Vicenza e il Ferralpi Salò che sono lì attaccate. E cercherà assolutamente i tre punti. Noi dobbiamo risalire piano piano. Arriviamo da cinque partite con Torrente senza sconfitta. E speriamo di continuare così perché sarebbe già un punto, sarebbe molto bello da ricevere. Se facessimo i tre punti pieni però è pazzesco, sarebbe da festeggiare davvero. Speriamo magari anche con i nuovi innesti che possano già entrare negli schemi di Vincenzo Torrente. Fatemi sapere la vostra di questo nuovo acquisto. Vediamo se si riesce a prendere il tanto voluto centrocampista. Si parla di Gucker, però è difficile che possa arrivare il giocatore del Pisa perché il Pordenone si è fatto avanti, ha fatto un'offerta pazzesca per prenderlo. Se lui dovesse clamorosamente rifiutare il Pordenone per venire al Padova sarebbe da stimare. Staremo a vedere se non arriva Gucker, se riescono comunque a dare questo tassello mancante alla rosa di Vincenzo Torrente. Fatemi sapere la vostra. Mettete mi piace, iscrivetevi al canale, seguitemi su tutti i social e noi ci vediamo presto per un prossimo video. Grazie! 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 Grazie!